Amiche mie, amici miei, benvenuti per un altro volo pindarico, in un certo qual modo, nel grande mondo dell'iconografia. Io devo dire che ho avuto piacere di trovare un grande riscontro da parte di tante persone che ci hanno scritto. Continuate a scriverci, a parte quello che riguarda la volontà o meno, l'interesse o meno economico e quello avviene il più delle volte per telefono, però noto che le informazioni ce le state chiedendo attraverso la nostra mail che è info-planetart.tv e che trovate naturalmente alla voce contatti sul nostro sito, bravissimo, Tommaso. Sono rimasto abbastanza colpito perché normalmente più che altro i contatti sono sempre avvenuti per telefono. Questa volta vedo che da un po' di tempo a questa parte ci state tanto scrivendo. Beh, questo a me fa molto molto piacere, devo dire la verità. Comunque sappiate che sul sito, a parte tutte le cose che troverete, lo speciale Icone, lo speciale Africa, lo speciale Tibet, Epoche, Arte del Dragone, Contemporanea e quant'altro, più sarà piacer vostro e piacer nostro visualizzare insieme nel corso delle prossime, chiamiamole tra virgolette, puntate, a me piace definirle così perché è un continuum senza una soluzione di continuità praticamente. Ogni trasmissione di planetart, qualunque ne sia il conduttore o la conduttrice e soprattutto la merceologia trattata è in realtà un continuum spazio-temporale e direi anche merceologico. Quindi voglio dire oggi facciamo una cosa, domani un'altra, ma comunque sempre sogni realizzati sono. E allora, come ormai tradizione, quando faccio la trasmissione delle Icone, aprirò il baule dei sogni. E poi così, per spezzare un po' la splendida atmosfera che si crea quando parliamo di Icone, poi magari vediamo di fare anche qualcosa di un po' più ludico. Eccolo qua, Ale, vai a vedere il mondo dell'icona. Grazie a tutti. Avete visto che bello? Allora, guardate che operazione sto facendo. Vedete che sto chiudendo questo baule, vero? Perché dovete sapere che io nella mia intimità più intima sono un amante del gioco, del divertimento, dello scherzo, eccetera. E persino su immagini che lo sapete, in tanti mi hanno scritto e l'hanno detto, si sente con quanta passione e amore ti accosti a quest'arte che è sacra, ma non è solo sacra, è qualcosa di più e ne parleremo. E poi darò una piccola spiegazione all'amica, gentile, ma questo lo facciamo dopo, che mi ha chiesto di ricordare qualcosa sulla iconoclastia, sulla furia iconoclastica. Ma vediamo se scateno la vostra furia con una piccola butade così che mi è venuta in testa. Vi faccio un piccolo intofinello. Allora, piccolo intofinello, come fa un Pope in chiesa a chiudere le finestre? Benedetta, Nicoletta, Andrea, Tommaso, qualcuno di voi lo sa? Lo sa nessuno? Un Pope a chiudere le finestre in chiesa, come fa? Clicca sull'icone. Va bene. Va bene. Allora, abbiamo dei... Perché non ridete? Tutti hanno il computer a casa loro, guarda, perché d'altra parte... Anzi, spasiva! Sapete perché? Perché vi devo ringraziare, perché abbiamo il sito che è in continuo aumento di visite. Perché Tommaso è magico in queste cose e sa come andare a scoprire il sito, come facciamo a vedere se c'è un calo, se c'è una crescita, se c'è una stabilità. È un continuo aumentare le vostre visite. Quindi, secondo me, tutti gli amici l'hanno capita, solo voi quattro non l'avete capita. Vabbè, tragiche siete proprio voi. Tragiche e tragici. Invece, vogliamo adesso seriamente raccontare un pochino la storia delle icone e soprattutto la storia di queste icone. Senta, io sa che vorrei fare oggi. Cambiamo sistema. Facciamo una veloce carrellata, è d'accordo? e do prezzi e misure e poi torno man mano e le racconto un pochino meglio. D'accordo? Bene. Allora, velocissimi, crocifissione. Signori, questa è una delle scuole più rare che possiate trovare. Questa è Pallec. è una spettacolare scuola di Pallec. Signori, è una delle scuole più rare. Tra l'altra parte che Pallec finisce intorno al tardo ottocento, già sparisce completamente dalla possibilità, diciamo, di essere in qualche modo presente. Comunque, adesso ve la presento al volo, poi ne riparliamo, dai. 27 per 31, 4.800 euro. Una crocifissione splendida, poi la andiamo a vedere. Vieni con me. Questa è. Questa non solo è di altissima epoca. Perché qui siamo tra la fine del 600 e i primi anni del 700. Diciamo entro il 1730. proprio tra il 1680 e il 1730. Ed è di un livello qualitativo ed esecutivo straordinario, misura 31 per 26, 4.800. Vedete la resurrezione e la discesa agli inferi. Poi ne parliamo. vado avanti. Questa è una Madonna molto bella, prima di tutto perché la Madonna di Tikvin, la Tikvin Skaia, qui c'è scritto Tikvin Skaia, è un'icona molto, molto amata e molto, molto bella. E poi, ecco, guarda che cos'è, guarda che cos'è, guarda che cos'è, guarda che cos'è. E poi, vedi, ecco, qui c'è scritto Tikvin Skaia sotto, ma in caratteri però occidentali. E c'è una scritta che voi vedete perfettamente. Eh, chi lo sa? Guardate, le icone per loro stessa natura non sono firmate e vi spiegherò anche il perché. però, dai, andiamo a vedere. Allora, scusami, non ti ho dato il prezzo della Tikvin Skaia. Tikvin 31 per 26 viene proposta a 3.200 e siamo ancora una volta nella fine del XVIII secolo. Poi andiamo avanti comunque.